è stato l'inizio della fine saltare gli appelli è diventato come una droga uscire di casa con i libri nello zaino e poi andare al parco oppure al cinema stare in giro per ore senza una meta non fare nulla ma farlo con un rigore maniacale e in barba a ogni ragionevolezza continuare a ripetersi tanto poi sistemerò tutto è un cocktail letale di onnipotenza e autodistruzione un'ubriacatura di cui Aral non sa più fare a meno